Il Forum Romanum Nell'area tra il Colle Capitolino e il Colle Paladino, il foro è stato trasformato da conglomerato di capanne a colossale costruzione in marmo in meno di 700 anni. Quello che oggi possiamo ammirare sono i resti di un luogo che per gli antichi romani era il più sacro dei luoghi di culto e allo stesso tempo era il centro della vita quotidiana e di interazione per la comunità. Era un luogo dove Cesare si è incontrato con il Senato, dove l'imperatore Augusto ha formato il suo impero e dove per generazioni marmo è stato estratto per la costruzione di chiese sparse per tutta Roma, inclusa San Pietro nella città vaticana. Il foro romano è rimasto sepolto e dimenticato per decenni, fino a quando Giacomo Boni ha dato inizio ad un ambizioso progetto di scavi archeologici che ha trasformato questo sito e ha portato alla luce molti monumenti, fino ad allora tesori nascosti nel corso degli ultimi 150 anni. Dottoressa Patrizia Fortini, parte della soprintendenza archeologica, nel ricostruire il lavoro di Giacomo Boni, è entrata in contatto con la professoressa Krupali Krusche, direttrice del Dharma per la Università di Norrodei, che a sua volta ha ricostruito il foro in 3D utilizzando tecnologie trasformative. Lo scopo dell'esibizione del foro romano è di fornire ad architetti, archeologi, storici d'arte, accademici e il pubblico generale una maggiore comprensione dello sviluppo della documentazione archeologica e degli scavi al foro romano negli ultimi 150 anni, dal 1898 al 2013. Questa è una frontiera che sono molto felice di toccare nella mia generazione, ne vedranno i benefici soprattutto quelli che verranno dopo di noi se verranno, però in questo senso la tecnologia deve essere non uno strumento sostitutivo, perché nulla, poi sostituisce il controllo diretto e il pensiero dell'uomo, non siamo ancora ai livelli, come dire, di Asimov, sul robot che sostituisce l'essere umano. Mi auguro che non ci arriveremo mai evidentemente, però è un sistema che deve essere usato a corredo e integrazione della mente dell'uomo. Io lo immagino come una protesi, una protesi digitale che consente all'essere umano di essere più capace, più veloce, più produttivo a parità di intelligenza. Giacomo Bonni vive nel 1900, quindi è chiaro che anche le tecniche e soprattutto i materiali che venivano impiegati da lui per i restauri avevano i limiti che gli sono intrinseci, per cui, però, ciò nonostante, lui ha compiuto, a mio avviso, proprio uno sforzo notevole per far capire, per far capire come le strutture, le architetture erano nella fase originale. Che è la figura di Giacomo Bonni, questo architetto che ha vissuto in pratica tra la metà dell'Ottocento, che è stato incaricato dall'allora Ministero della Pubblica Istruzione, perché all'epoca i beni culturali erano gestiti appunto dalla pubblica istruzione, di portare avanti lo studio, quindi le indagini archeologiche e la salvaguardia del Foro Romano. Giacomo Bonni era un architetto, non era un archeologo. Questo è un elemento forse particolare, che ci può spiegare anche il modo di operare di Giacomo Bonni nell'area archeologica del Foro Romano. È chiaro che lui ha voluto dire, facendo in questo modo, che proseguiva, che lui aveva realizzato soltanto una parte. E penso che, diciamo, questo dimostra una sensibilità intelligente, un modo di, anche un'attenzione verso il pubblico, che non è, diciamo, formato sempre di esperti, archeologi, architetti, ma anche di gente comune, che però riesce a percepire certi particolari quando sono, diciamo, rappresentati in una maniera così chiara. Perché le cose, cioè, le persone sono cambiate, quindi anche noi abbiamo la possibilità di illustrare in maniera molto più chiara dunque questo che lui ha visto all'epoca. Quindi noi abbiamo, unendo il passato con il futuro, avremo la possibilità, appunto, di far vivere molto bene lo spirito anche dell'epoca. Questo, insomma, è il lavoro che stiamo portando avanti in questi anni. E devo dire che la sovrintendenza in questo è, diciamo, è stato sempre lo spirito che ha animato il lavoro di tutti noi che siamo occupati in questa ricerca. Oggi presentiamo anche un'installazione che si avvierà nei prossimi giorni a seguito di convenzione, nella quale facciamo un passo in più, che è quello di presentare anche a livello multimediale il risultato di studi e lavori fatti in comune, appunto, tra la sovrintendenza, in particolare, ripeto, la collega Patrizia Fortini e l'Università di Notre Dame. Un assaggio molto, molto consistente di quello che era il Foro Romano e di come funzionava quest'area nell'antichità e di come noi vorremmo vederla e riconoscerla. e di come noi vorremmo vederla. Veramente non ci sono stati grandi difficoltà nel mio lavoro di interprete fra le due parti, ma il ruolo più importante che ho avuto è proprio stato quello di far capire alle due parti i modi diversi di veramente muoversi. Per me la riscoperta del Foro Romano è stata molto importante rivederla con questo gruppo di lavoro. Oltretutto, sì, si sentiva il nome di Giacomo Boni, ma credo che la maggior parte degli italiani non conoscessero, non sappiano chi fosse veramente. e l'importanza di questo personaggio nell'avvio degli scavi e della riscoperta, del consolidamento e del ritorno del Foro Romano a diventare una parte che fa parte di una storia che noi tutti qui a Roma non solo conosciamo, ma possiamo rivivere, narrare e raccontare anche ai visitatori della nostra città. D'Arma started with the intention of becoming a World Heritage Site Documentation Team. Primarily, we do documentation and research on specific, well-known World Heritage Sites that are not as well documented as one would imagine. When you see the Roman Forum, for example, when we started looking at the full site, the Forum, which starts from the Capitoline Hill up to the Colosseum, we realized that there is not one very comprehensive plan that describes the sectional and planar view of the site. Well, from the beginning, when we decided to work on the Roman Forum, many people said, well, it's such a known area. Many scholars for many years have been studying the Forum. What else can you add to the mix of understanding of what the Forum means? And at the beginning, it seemed like a difficult question, but Professor Krusche had a really wonderful response. She said, well, you know, then let's add another layer of understanding to the Forum. And once we started thinking about, you know, what the public doesn't know about the Forum, and we really were able to start our research and documentation of the site. What was different about what we were doing was that we were documenting the site in both traditional methods, hand drawings and measuring and traditional means of surveying, as well as using higher-end technology with a 3D laser scanner. The scanner works with very high accuracy levels. We have scanned all the temples to be at the accuracy of one millimeter, and we have scanned the overall site at the accuracy of four millimeters. With all the information that was collected, what you get to see is the site in 3D. Of course, to obtain a point cloud for a complex shape such as a monument requires multiple scans. So in this case, this is eight scans. So if I turn off the color, you can see that each one of the three or eight colors will show different points. We've written proprietary software that allows you to merge the data and also to display it. So one of the major advantages of this merging technique is that not only do you get a realistic visual model, but it retains all of the point cloud data in XYZ terms. And so by picking a point that we can zoom in on, we can actually take a measurement of a point. It also allows us to do things that you would not be able to do. For instance, if I want to look at the sizes of some of these letters at the top, obviously to get up here would require some sort of platform or scaffolding. I can actually measure these things here. So these letters are something like eight inches high. We were able to acquire all the information we needed from the ground, which was really spectacular. And while traditional means of surveying are quite labor-intensive and take a very long time to do, we were able to do the amount of work that would take maybe a year in just three weeks. All of the vertical information, so the heights of the monuments, the topography surrounding buildings, were all acquired by the scan data. When we brought that back to the lab and put that information together, we were able to immediately look at historic documents of the forum and even more recent documents from the 1980s and see what was the difference, how the forum had changed, how the layers of earth had been accumulated over time, what was removed. And we create a sectional view of the site. We literally cut layers of sections on the forum site to be able to get an understanding of how, for example, the city level is and its relation to the rest of the forum. This also gives us an understanding of what are the tallest buildings or the tallest monuments on the site itself. So we, taking this scan data, the students of architecture here at Notre Dame created these line drawings. These line drawings allowed us to now see each of these point cloud data information in more clarity and in a language that is easily understandable by anybody else in the field. On site, we created different points where we would scan the monuments from various angles to acquire as much information about them. And in between scans, we had a lot of time to interact with the ruins and learn from those by hand sketching. And upon our return, we were working with James and Chris to create models that were in 3D with the scanned data but had images applied to them so that they can be read as models when they're zoomed in and out and not just point clouds. When we work with 3D scanning technology, the scanner itself gives us pixelated information and we may be missing some of the original understanding of data through it. And in that case, we replace that information with the GigaPen images that we have taken on site. For example, this image has around approximately 500 images put together and that is then referenced to create the watercolors we produce. Some of the more interesting things that have come about from the work that we've done with Dharma are the student discoveries. And for Professor Kruse and for myself, Professor Sandusky and all the faculty members who are a part of this project, it's been really wonderful for the students to be able to contribute these new findings of such a special place in history. These kinds of discoveries are really great for the students because not only are they learning about these monuments in the classroom, they go out on site and they have a new level of appreciation for what's happening. The raw data that they're acquiring, the scans, as well as the drawings, is put together with archival information and really they're starting to look at firsthand archival materials and resources at some of the most extraordinary libraries there are in the world here in Rome. And they're able to put that information together and see these monuments in a way that they never saw them before. and that is probably one of the best things that Dharma has done for the students at the University of Notre Dame. And they're open to it Grazie a tutti.